un iscritto oggi mi ha scritto su facebook mi ha chiesto il numero mi ha contattato e mi ha chiesto un consiglio mi ha chiesto come posso realizzare dei bassorilievi e se questi file qua posso utilizzarli per dei macchinari che ho io la risposta è stata che devi vedere se i file che vengono esportati dai nostri programmi cioè stl obj vengono letti dal tuo macchinario e poi è possibile sì creare da alcune fotografie dei bassorilievi o delle litofanie ho trovato questo sito molto interessante che consente di inserire la fotografia e in automatico ti crea la tua litofania la litofania è un modo di nuovo di fare design o arte diciamo vuol dire metti questo pannello con la luce dietro e questo pannello si illumina e in trasparenza si vede o la fotografia o comunque il logo è un gioco di luci voglio farvi vedere questo un po perché così lo scoprite e cominciate a fare le litofanie e a generare i file in automatico in modo gratuito e un po perché la cosa mi interessa per altri fini questo programma qua diciamo online completamente gratuito genera un stl voglio spiegarvi ora come funziona il prossimo tutorial lo farò come poi andare a concretizzare quello che abbiamo imparato oggi in alto puoi cliccare su immagine ti chiede che immagine vuoi caricare scegli il file io ho scaricato apposta un'immagine natalizia natale apro ho preso un'immagine su web a caso scrivendo natale e ora voglio creare o la mia litofania o il mio basso rilievo o alto rilievo tenendo premuto il tasto sinistro cliccate e tenete premuto ruotate attorno all'oggetto questo qua è come se fosse il mio piano di stampa già dall'immagine che ho scaricato ho creato questa piastrina in 3d posso già stamparla e cambiare il colore prima dei fiocchi o prima dell'alberello già per fare una cosa carina e avere qualcosa di bello in questo caso è un alto rilievo ci sono anche altri modi di creare questo stl sulla base dell'immagine voglio una curva quindi voglio che la mia immagine sia in basso rilievo sulla curva clicco su refresh mi carica automaticamente la mia immagine tonda questo programma non è molto lento credo che dipenda molto anche dalla connessione che avete la mia non è il massimo vedete che ora ho creato la mia piastrina tonda con l'immagine che voglio io questa qua devo stamparla invece inclinata in questo modo già me la mette sul piano nel modo giusto poi ci sono anche altri filtri diciamo che puoi scegliere qua con la barra scorro cuore e vari tondi e varie trame molto molto bella questa per me proviamola adesso faccio refresh ma soprattutto con le cose d'arte anche qua si può simulare una colonna questa è una piastrina che è tonda e è ancora più particolare questo qua comincia già a prendere l'assembianza di un bel prodotto voglio esportare questo oggetto clicco su download ci sono verso l'alto dei settaggi e potete definire alcuni parametri che comporranno il vostro oggetto potete andare in settaggio del modello e ci sono come anche in altri programmi tipo mesh mixer ci sono una serie di parametri che definiranno alcune caratteristiche tipo la dimensione massima espressa in millimetri tipo lo spessore sempre espresso in millimetri i bordi e via via fate voi le vostre prove il programma a me risulta un po lento nel muovere questi parametri qua però se avete un computer con una connessione più veloce per me con una connessione più veloce per me riuscite c'è l'immagine anche potete modificare i settaggi dell'immagine potete renderla positiva negativa specchiata sul settaggio dell'immagine una cosa interessantissima è questa c'è la ripetizione della mia trama magari posso fare o solo una decorazione natalizia per l'albero e in questo caso ci faccio dopo un forellino ci attacco un nastro e l'attacco sull'albero di natale se invece voglio magari un oggetto un po più grosso in cui voglio ripetere la trama posso aumentare e duplicare praticamente la mia immagine in modo che lui percepisca che l'immagine è multipla e quindi l'stl me lo genera multiplo vado su model clicco su refresh la mia immagine si ripete elabora tutto zoom e ho creato la mia placchetta più grossa magari questo è un bel quadretto che voglio regalare da appendere a muro molto particolare stampato a 01 molto lentamente e è una cosa che magari colpisce soprattutto perché le persone hanno ancora ricevuto pochi regali dalle stampanti 3d posso andare anche sui filtri cliccando mi crea un cilindro composto da tutte le mie immagini tutte le mie immagini che vengono praticamente spalmate bene l'oggetto entrando nell'oggetto si vede che genera un oggetto stampabile sembra che sia tutto correttamente fatto vi ho fatto quindi vedere questo programma per le litofanie ma non dovete farvi limitare e dovete pensare molto più in grande nel senso che non intendo farvi usare questo programma per poi realizzare delle litofanie voglio fare utilizzare questo programma come una parte del processo per ricavare degli stl in modo semplice partendo da una semplice immagine io riporto in 3d in modo automatico tutto quello che c'è già in 2d nel prossimo tutorial vi farò vedere quindi come utilizzare questa stampa qua questo oggetto che abbiamo creato per realizzare un bel oggetto di natale una bella pallina decorativa da mettere sopra il tuo albero di natale se questo video ti è stato utile metti un bel commento qua sotto so che questo argomento interessa tantissimo sui gruppi facebook si chiedono come farle tanti fanno fatica a realizzare dei file 3d aprite la mente prendete in mano questi tre o quattro programmi che io vi sto vi sto insegnando ad usare e potrete fare veramente tutto basta avere un computer potente e tanta pazienza alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.